Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere il seguente esercizio. Verifica che la seguente relazione è d'equivalenza nell'insieme indicato, poi determina le classi di equivalenza e l'insieme quotiente. Nell'insieme A, x e y sono due frazioni equivalenti. Cominciamo a verificare che la nostra relazione è d'equivalenza nell'insieme indicato. Essa quindi deve essere riflessiva, simmetrica e transitiva. Una relazione è riflessiva in un insieme A se ogni elemento di A è in relazione con se stesso. In questo caso questo è vero, infatti ogni frazione è equivalente a se stessa, quindi la relazione è riflessiva. Essa è anche simmetrica, infatti se x è in relazione con y, anche y è in relazione con x. Quindi questo vuol dire che il fatto che x sia equivalente ad y implica che anche y è equivalente ad x. Infine la relazione è anche transitiva perché se x è in relazione con y ed y è in relazione con z, anche x è in relazione con z. Quindi se x è equivalente ad y ed y è equivalente ad una terza frazione z, anche x è equivalente a z. x è equivalente ad y ed y è equivalente a z. Essendo quindi riflessiva, simmetrica e transitiva, la nostra relazione è d'equivalenza. Vediamo adesso quali sono le classi d'equivalenza e qual è l'insieme quotiente. chiamiamo a1 la classe d'equivalenza dell'elemento tre quarti. Questo è l'insieme degli elementi di a che sono in relazione con tre quarti tramite r, quindi tre quarti, e nove dodicesimi, che è una frazione equivalente a tre quarti. Chiamiamo a2 la classe d'equivalenza dell'elemento sette quinti. questo è l'insieme degli elementi di a che sono in relazione con sette quinti tramite la relazione r, quindi sette quinti e quarantanove trentacinquesimi, che è una frazione equivalente a sette quinti. Chiamiamo ancora a3 la classe d'equivalenza dell'elemento cinque settimi. Questo è l'insieme formato dagli elementi di a che sono in relazione con l'elemento cinque settimi tramite la relazione r, quindi cinque settimi e quindici ventunesimi, che è una frazione equivalente a cinque settimi. Infine chiamiamo a4 la classe d'equivalenza dell'ultimo elemento rimasto, venticinque quarantanove esimi. Questo è l'insieme degli elementi di a che sono in relazione con 25 quarantanove esimi tramite r, quindi solo 25 quarantanove esimi. Infatti in a non ci sono altre frazioni equivalenti a 25 quarantanove esimi. Definiamo adesso l'insieme quotiente. Esso si indica con i simboli a quotientato r e rappresenta l'insieme delle classi d'equivalenza generate in a dalla relazione r, quindi l'insieme formato da a1, a2, a3 e a4. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara vi ringrazio per averla seguita.